Eccoci a parlare di neve e di sci. Qual è la situazione del nostro comprensorio? Lo chiediamo a Valentino Galli, presidente dell'associazione Schipas di Livigno, consigliere Anef Lombardia e Aiafav, impiantista di Bormio. Valentino, buonasera. La settimana direi che non è andata bene. Decisamente il calo è stato rimarchevole. Da 7.500 dell'anno scorso siamo scesi a 6.500 primi ingressi. Devo dire che tutto sommato però in termini di vendite abbiamo ancora retto abbastanza, ci siamo difesi e non registriamo delle flessioni importanti. Ci sono dei fenomeni particolari che giustificano questa situazione per il fatto che quest'anno sono stati venduti dei documenti in più rispetto all'anno scorso validi per tutta la stagione. In termini di giornate sci abbiamo una flessione del 2% rispetto all'ultima volta. Non siamo passati dal meno 5% al meno 7% in termini che è ampiamente giustificato dal calo. Ci sono state meno presenze. Ufficialmente sono l'11% di meno. I soldi però bisogna anche calcolare che quest'anno c'era un aumento del prezzo di un euro al giorno e questo fa aumentare la differenza. Però tutto sommato ecco. Devo rimarcare che in questo periodo è mancato in modo particolare il mercato polaco. Tutti si aspettavano che in gennaio i polacchi delusi dallo Schipas Free venissero di nuovo però alle condizioni normali di mercato e questo non è capitato. veramente si nota la flessione di questo mercato e è credo da imputare quasi esclusivamente ai polacchi il calo numerico di queste due settimane perché non lo so esattamente però probabilmente la crisi tocca anche la Polonia in modo particolare. Poi però ci sono delle agenzie e degli operatori che dicono di avere delle ottime prospettive da qui in avanti per cui non lo so se è il caso di allarmarsi più di tanto perché in effetti le somme è meglio comunque tirarle alla fine perché un po' di alti e bassi si registrano tutti gli anni e questa volta registriamo una flessione a gennaio. voglio anche ricordare che dopo diverse riunioni e incontri tra i promossi dal comune sponsorizzati da APT e sostenuti dalle agenzie di viaggio si è per così dire ceduto da parte dell'associazione Schipas a concedere delle condizioni più vantaggiose alle agenzie per giustificare l'interesse anche economico di questi operatori a tornare a Livigno. Noi abbiamo pensato in modo particolare all'Inghilterra perché il mercato inglese veramente è da considerarsi proprio sparito da Livigno. I numeri sono talmente modesti rispetto ai numeri, ai grossi numeri di una volta che bisogna preoccuparsi di quello. Certo qui salta fuori che c'è in mezzo anche qualcun altro per cui sono fenomeni di crisi. Speriamo di non buttare i soldi in vano attraverso il pagamento di una provvigione superiore a quella che si è fatta in questi anni perché veramente la cosa diventerebbe pesante per l'associazione perché parliamo di cifre molto significative per sostenere il turismo anche per la stagione prossima. Ha dato la disponibilità anche agli albergatori. È stata fatta una campagna capillare da parte dell'associazione attraverso il contatto a quasi tutti gli operatori per domandare la disponibilità a fare dei contratti con le agenzie e con le dovute provvigioni. Vediamo se questo progetto cammina e viene adeguatamente pubblicizzato può darsi che arriviamo a fare un ritorno importante in termini di presenza anche di quei mercati che oggi sono molto deboli. Quali sono le condizioni che pongono i tuoi operator? Ognuno poi contratta le condizioni che le pare, però nel nostro caso noi abbiamo lamentato la non disponibilità degli albergatori a concedere la provvigione alle agenzie. Invece da questa campagna che si è promossa c'è stata, devo dire, inaspettatamente, una lieta sorpresa, c'è stata la disponibilità a concedere la provvigione alle agenzie, e i tour operator per riuscire a colmare quei vuoti che negli alberghi si erano creati negli ultimi tempi. Allora, qui è venuto dalle proposte portate avanti dall'associazione commercio e turismo, è emerso che c'è la disponibilità da parte degli operatori interpellati a concedere, non dico tutti, perché qualcuno chiaramente si è chiamato fuori, però sempre pochi, 5 o 6 in tutto fra i tanti interpellati, si sono dichiarati disponibili a concedere la commissione pari a quella che viene data dagli operatori, per esempio, del Tirolo austriaco, che tutti alle agenzie riconoscono un benefit per la loro collaborazione. Ma al di là del benefit che loro richiedono, richiedono anche un numero minimo di posti letto? No, noi diamo il minimo di posti letto, in questo caso, credo che non serva molto per il fatto che con l'adesione massiccia praticamente sono stati reperiti 850 letti, almeno i numeri sono scritti così, disponibili da dare a questi eventuali nuovi contratti, il che significa non risolvere il problema radicalmente, significa semplicemente fare un tentativo di risolvere la questione della collaborazione con le agenzie. Operatori che sono ancora fiduciosi di riuscire a fare il pieno con le proprie forze, ce ne sono, però anche quelli che hanno aderito chiaramente preferiscono non pagare la provvigione. Per noi è veramente un passo avanti per coprire questi buchi che abbiamo avuto in questa stagione e possibilmente risolvere anche qualche altro problema che già era in discussione da tempo e che mai invece era stato recepito perché la nostra filosofia di commercio era di difendere coi denti la settimana bianca e non cedere a richieste di diminuzione della forza, della proposta che si stava portando avanti. Siamo orgogliosi di avere perlomeno rotto il ghiaccio per portare avanti una strategia diversa da quella tradizionale, anche se poi i risultati dipenderanno anche molto dalla crisi economica che c'è in atto in Europa e noi probabilmente gli effetti che abbiamo già visto a Natale li riporteremo poi più avanti. Immagino che fra un anno o due si cominceranno a sentire gli effetti benefici di quelli che sono stati i grandi sacrifici di questi ultimi due o tre anni. Valentino, secondo lei quali potrebbero essere le prospettive con un'azione di questo tipo? Quale percentuale intendete raggiungere di arrivi a Livigno? Su quali numeri intendete attestarvi? Ma è quasi impossibile fare delle previsioni precise, però come si può dimenticare che anni indietro il sabato per noi c'era un traffico di pullman che trasportavano inglesi da Malpenza o da Orio al Serio ed avevamo raggiunto anche numeri rilevanti, circa 40 mezzi per sabato che facevano questa navetta tra Livigno e gli aeroporti. Di quelli è rimasto niente, praticamente. Non può essere trascurato questo mercato? L'ideale sarebbe riprendere tutta quella fetta di mercato che una volta si controllava. Chiaro, qui ci giocano anche fattori che allora non c'erano, cioè i prezzi che gli alberghi facevano a queste agenzie, a questi tour operator, erano sicuramente più interessanti di quelli che ci sono adesso e di conseguenza qualche differenza in più ci deve essere. D'altro canto, noi oggi vediamo che la sterlina potrebbe anche dare una mano, nel senso che non è più forte come è stata quando è scoppiata la crisi con l'Inghilterra. Potrebbe anche ritornare il mercato da quel versante. Così come riescono oggi a intrattenere un bel rapporto sia con il Fort Albert, con Sant'Anton e soprattutto con tutti quei villaggi che sono sul Fort Albert, da Lec a San Cristof, a tutti a Zours, tutti che fanno conto ancora della clientela inglese. Questo c'è anche nello Zillertal. L'amministrazione comunale ha fatto una visita all'agenzia di turismo di Meyerhofen e ha avuto le informazioni circa il tipo di clientela e fra questi c'è una porzione molto importante di inglesi. Il che vuol dire che da qualche parte il popolo di sciatori inglesi va ancora a fare lo sci. Si tratta chiaramente di riuscire a prendere di nuovo questo mercato, a riportare, non dico i numeri di una volta, però a riconquistare un mercato che per tanti anni praticamente è stata basilare per il turismo di Livigno. Vi saranno comunque marginalità per gli operatori con un'operazione di questo tipo? Adesso qui il discorso è sempre quello. Vale la pena stare vuoti per alcune settimane con la speranza poi di invece riempire a tariffa piena le settimane di alta stagione. Questo è un po' l'interrogativo di tutti, però se è vero come sostengono gli albergatori che ultimamente non riescono a coprire neanche l'alta stagione perché accusano anche dei problemi di posti vuoti anche in alta stagione, credo che valga la pena a rischiare perché tanto qui la disponibilità non è delle strutture intere, è semplicemente la disponibilità per un allotment, il che vuol dire che al massimo impegnano forse il 10% dei propri letti o qualcuno magari anche di più, dipende dalla grandezza e dalle strutture che si sono impegnate. Va rimarcato che le più disponibili sono le grandi strutture perché quelle hanno partecipato più decisamente alla promozione. Questo vuol dire che l'interesse è reale perché io penso che facciano più fatica a riempire i grandi alberghi di quello che fanno le piccole strutture, però insomma c'è stato l'interesse vuol dire che l'operazione era ben vista da tutti. Valentino, come sta andando invece a Bormio? A Bormio il boom di Natale ha creato un incremento significativo, però il mese di gennaio veramente è stato, queste settimane almeno dal 6 di gennaio, quelle due settimane sono state veramente molto deboli, per cui tutto il vantaggio accumulato durante le vacanze di Natale praticamente è stato bruciato da questo periodo direi negativo, ma qui non lo so come mai per esempio i russi che l'anno scorso erano arrivati in numero penso pari a quest'anno, hanno abbandonato la settimana bianca, non hanno comprato lo skip a settimanale e si sono limitati a comprare gli skip a sol giornaliero, addirittura soltanto la tessera a due o a quattro ore. Io credo che qui ci sia l'apporto negativo degli operatori di Bormio che li ha incanalati su quel tipo di mercato. Io sono sorpreso perché evidentemente questa è una politica sparagnina, cioè di limitare il più possibile la spesa per lo skip a ai clienti, però non capisco come si possa sostenere anche per l'avvenire la politica della settimana dedicata soprattutto ai russi che è la settimana dopo l'epifania nostra rompendo un po' gli equilibri che ci sono fra i vari operatori. Mi suona molto strano perché mi risulta che la clientela russa sia un'ottima clientela che lascia veramente un interessante supporto anche alle attività commerciali. In questo caso no? Sì sì, le attività commerciali a Bormio veramente hanno avuto dei grandi benefici dalla presenza dei russi. Sta dicendo quindi che vengono orientati a sciare di meno? Io sto dicendo esattamente quello. Vengono consigliati degli operatori a spezzettare, a non più comprare il settimanale ma a limitarsi a comprare solo il giornaliero o addirittura il frazionamento della giornata attraverso le due o le quattro ore piuttosto che comprare il settimanale. È un ragionamento direi proprio sorprendente perché i turisti se fanno il conto prendendo il settimanale si trovano una media giorno molto più bassa di quello che è il costo del giornaliero e anche di meno di quello che è il costo della tessera a tempo, cioè a ore. Però si capisce che qualcuno è convinto che dando di questi consigli ai turisti faccia un servizio al turista, convinzione sua ma convinzione completamente sbagliata. Ha dati anche sulle altre stazioni sciistiche sia provinciali che dell'arco alpino qual è la situazione generale? La situazione generale è che Natale è stato per tutti positivo, ci sono stati degli incrementi importanti, dei recuperi direi più che incrementi perché l'anno scorso con le condizioni meteorologiche sempre negative il risultato era stato deludente, c'erano stazioni senza neve, c'erano problemi di qualsiasi tipo. Quest'anno Natale è stato per tutti un buon Natale perché c'era neve dappertutto, perché c'era veramente tanta gente che, non lo so, qualcuno dice che nel caso delle stazioni più importanti dove c'è il fenomeno gravissimo delle seconde case, a Natale sono state occupate. Qualcuno ha anche immaginato di dire che in una situazione come questa tanti si sono ricordati di avere anche la casa in montagna e hanno pensato bene di sfruttarla per le vacanze di Natale, piuttosto che lasciarla chiusa e lasciarla abbandonata. Hanno poi capito che valeva la pena risparmiare su quello utilizzando la propria abitazione. Questo è il fenomeno prevalente a Ponte di Legno, è prevalente all'Aprica, però è un fenomeno molto forte anche a Bormio e qualcosa anche nelle valli perché sappiamo bene che ci sono seconde case disseminate un po' dappertutto. L'Iuigno fa un po' la mosca bianca in questo caso perché praticamente gli appartamenti chiusi sono pochissimi o nessuno addirittura. I condomini con gli appartamenti seconde case ormai sono veramente pochi per cui il fenomeno non è rilevante e invece è rilevante per le altre stazioni. Madesimo in modo particolare che non ha alberghi, se sfrutta la seconda casa chiaramente ne trae un grande beneficio. Un'ultima cosa, quali sono invece gli input che giungono, quali sono i dati in suo possesso rispetto invece ad Austria e Svizzera? Stanno ottenendo? La notizia mi arriva dal direttore della banca di San Moritz che è tutto euforico perché a Natale hanno recuperato il famoso 30% dell'anno scorso per cui molto significativo la campagna che hanno fatto. Il mese di gennaio mi risulta che anche loro non fanno miracoli in questo caso. Invece per esempio la notizia di Iskla che è molto frequentata anche di questi giorni sicuramente ci sorprende però sappiamo anche che Iskla è considerata la migliore stazione invernale nel Tirolo in questo momento per le sue grandi dimensioni, le sue grandi capacità di dare svago ai propri clienti però anche le altre per Natale sono andate bene. Iskla per esempio sta marciando bene anche in queste settimane. Forse qualche flessione da altre parti invece no, c'è per esempio la notizia di Selamse che praticamente ha due settimane o tre vuote. Questo non è che cambia molto perché poi a riprendere della stagione quando arriva il carnevale si riempiono tutti di nuovo e certo anche in Austria sentono il peso del costo della giornaliera dello Schipas perché però bisogna anche rimarcare che hanno anche un sacco di alberghi che praticano delle tariffe direi superiori alle nostre, almeno in certi casi perché poi lo sconto e i prezzi speciali saltano fuori da tutte le parti, anche le grandi stazioni fanno le loro strategie, le loro politiche attraverso anche l'abbassamento di prezzi. Per esempio è venuta la notizia di Madonna di Campiglio che praticamente ha fatto delle grosse promozioni ma basandosi anche su un bel taglio delle tariffe, per cui non ci sorprende niente in questo caso. Chiaro che per sostenere il turismo certe aree hanno bisogno veramente di molto ossigeno. a Madonna di Campiglio, la provincia di Trento paga il pullman per intero dal trasferimento dall'aeroporto di Verona fino a Madonna di Campiglio, questo è un bel aiuto per garantire che le stazioni continui comunque ad andare avanti bene. Questo è un segnale, poi sentiamo anche della Val di Fassa che qualche problemino è venuto fuori, per cui sappiamo che è un argomento piuttosto complesso e difficile da portare avanti e ci sono per fortuna delle amministrazioni che sono sensibili a questi fenomeni, un po' in questo senso, ma in ogni modo chi può come l'Alto Adige e il Trentino fanno di tutto per riconquistare il mercato che è venuto meno in questi ultimi due anni a causa della crisi. Chiudiamo con un aggiornamento invece sulla situazione neve, le piste innanzitutto e gli impianti sono tutti aperti, la situazione è comunque ottimale? Sì, non ci sono problemi di nevamento, anche se un rinforzo dalla neve non sarebbe del tutto sgradito, perché a forza di comunque sciare sopra il manto nevoso, un po' di usura purtroppo la registriamo, ma non vuol dire che le piste non siano perfette, assolutamente no, attualmente si scia in modo ottimale. Il problema si prospetta eventualmente per il proseguo della stagione, perché se diamo un occhio ai tetti delle case, vediamo che di neve ce n'è super veramente poca. Perturbazione in arrivo? C'è una perturbazione per domani e dopo domani, ma quanto sia efficace per noi non lo so, perché mi sembra di vedere correnti che sono negative alle precipitazioni, nel senso che correnti da nord abitualmente non lasciano niente, non portano neve o pochissime. Per noi l'indispezzabile sarebbe che arrivasse una bella corrente da sud, dal Golfo di Genova venisse su una bella ondata di aria umida, allora potrebbe arrivare una bella nevicata, ma fin quando i venti girano da un'altra parte le prospettive non sono proprio favorevoli ad avere una precipitazione. Torneremo a parlare di neve e di sci, seguiteci naturalmente dal web, arrivederci.